Applicate un cappuccio o un fodero al termometro. Con un lubrificante idrosolubile, lubrificate i primi 4 cm della sonda del termometro rettale. Inserite delicatamente il termometro nell'ano per 4 cm. Tenete il termometro in posizione per il tempo necessario. Nel caso di un termometro non elettronico, occorrono 2 o 3 minuti. Nel caso di un termometro elettronico, esso indicherà il completamento della lettura con una luce o un suono. Estraete il termometro dall'ano e rimuovete il fodero o il coperchio. Pulite la zona rettale dall'eccesso di lubrificante. Pulite il termometro con un tessuto imbevuto di tampone alcolico. Se necessario, dalla parte meno contaminata verso quella più contaminata. Leggete il valore della temperatura sul termometro e riponetelo. Grazie. 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 Grazie.